Come facciamo ad essere noi stessi se non sappiamo chi siamo? Ponendosi questa domanda, viene fuori un qualcosa a cui non sappiamo rispondere. Oppure non ci poniamo direttamente la domanda? Il motivo è semplice. Ci sono molte persone che, quando parlano, quando si atteggiano, credono di essere se stesse. Ma se osserviamo più attentamente anche i nostri comportamenti, quando parliamo con qualcuno o parliamo con qualcun altro, siamo due persone diverse. Quando noi siamo da soli, siamo una persona, abbiamo una maschera, come una nessuno centomila. Quando parliamo con un'altra persona, siamo una persona diversa, è così centomila maschere diverse. Quindi, chi siamo noi? Siamo l'insieme di tutte queste maschere o siamo chi le usa per arrivare a un determinato fine? E soprattutto, come raggiungere la risposta autentica a questa domanda, chi siamo noi, chi sono io? Forse Ulisse c'era vicino quando a Polifemo, alla domanda chi sei tu, rispose io sono nessuno. Attraverso l'annullamento di quella serie di maschere che durante la giornata indossiamo, attraverso l'annullamento di queste codie, di tutto quello che crediamo di essere, viene dentro di noi un qualcosa che poi verrà colmato da ciò, di giorno in giorno, un poco alla volta, da ciò che veramente noi siamo. Finché continuiamo a credere di essere quella persona triste a volte, riflessiva altre volte, impulsiva altre volte ancora, aggressiva, ansiosa, depressa, Ci stiamo identificando con un qualcosa che siamo in un lasso di tempo che inizia dal tempo 0 al tempo 1 Poi dal tempo 1 al tempo 2 potremmo essere qualcos'altro Allora noi continuiamo a pensare di essere queste 100.000, 200.000 creature che si manifestano attraverso di noi Iniziandosi a dire io sono nessuno E iniziando a percepire quello che dentro di noi sentiamo, sentiamo una specie di Di vuoto interiore Quel vuoto interiore inizierà, se si fa un lavoro in se stessi, inizierà ad essere colmato da un qualcosa di sconosciuto Un qualcosa di sconosciuto che però ci abita Che non è figlio del mondo esteriore, non è figlio del mondo delle forme, ma è figlio di ciò che noi siamo Allora piano piano Questo bambino interiore cresce E crescendo manifesterà le parti buie e le parti belle Quelle che noi riteniamo di luce o di ombra E accettando entrambe le cose riusciremo veramente a conoscerci Piano piano Senza fretta Grazie